Dai, Mirto, è un gioco facile. Prendi il bastone, vai! Che fai? Sbrigati, vai! Papà, guarda che non tutti fanno quello che mi dice tu, eh. Pietro, corri e sbrigati, dai, vieni a vedere. Tobia, ma che succede? Non guardare me. Ti ho detto, sbrigati, vieni a vedere, dai! Non si può mai stare tranquilli, e c'è ancora tanto da fare. Eh, non sai quanto. Dai, vieni, corri. Vieni, Mirto. Grazie a tutti.